VIVA LA GRAFFA! E VIVA LA FI- AAAAAH Ah, giusto, iscrivetevi che sto provando a raggiungere boh un numero, ciao! BREELLO! BREELLO! Oh! Ti amo! Anch'io, frate! No, in professionale mi viene il tumore! Ah! Non ti va bene la professionale, eh? Va bene, aspetta, rimedio subito No, 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 non ammettere, no, no, no INCUBO! See you! Che cazzo succede agli schermi? Oh mio Dio! Ma che cazzo è sta roba? Quanti anni hai? Eheheheh No, non mi dai la X, stupida puttana Quanti anni hai? Quanti anni hai? Eheheheh Ancora la X? Oh, ma? Questa è una... Quanti anni hai? Eheheheh GET CANCER Abbiamo delle prove per caso UURF Ragà, ma sei madonna zorro, madonna... Io sono passato attraverso E anch'io mi sono passato dentro Ti è entrata dentro? Cosa hai detta? Eh, MF, andiamo a vedere quanto è No, venite cagassotto di merda Eh, vabbè, andrò da solo Viva della grada puta! Viva la grappa! E viva la fi- AAAAAH AAAAAH Madonna che spavento, che spavento! No, non era nemmeno finto sto cazzo di spavento È stato terrificante No, lev- Madonna, levatemi dal cazzo Oh, oh, oh E diventiti di nuovo a 90? Che diventi incinta? Te... Eheheheh Nooo, nooo Don't let your kids watch it! Brello, descrivi le donne in una parola Schiave Danilo Eh, vabbè, dove cazzo va sto idiota? Danilo, descrivi le donne in una parola Ehm... Com'è questo glow stick? Cioè? Un oggetto Delo, descrivi le donne in una parola Utili AAAAAH Sei veramente un bastardo No NO! Ehm... 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 Nooooo Nooooo Aiuto No No, non capisco dov'è Aiuto! AAAAAH Ehm... Ah, sono sopravvissuto Succa 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 Adesso c'è una cosa doverosa da fare Aspettate Delo Vaffanculo Com'è... Ehm... A presto